ciao a tutti e ben tornati a un nuovo video di magic badge anche oggi facciamo nemmo avanti con ZSIM4 una storia che ormai stiamo incominciando a prendere stiamo incominciando a prendere una storia un po controverso io adesso sono andato un pelino avanti che ho finito e mi trapposto un po' la casa adesso lascio il primo passaggio mio figlio non possiamo dire che non è sangue del mio sangue l'ultima volta siamo trasferiti con Maria e loro dove dorme tanto fatta che dormi perché dorme pure in... no andiamo con Braille facciamo orecchi come sempre da far schifo andiamo anche un po' e e No, non è alto per me. No, ci vediamo. Eh, non so, che direte non so, c'hai una cucina che è la metà basta. No. No. No, non so, non so, non so, non so, non so. Oh. 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 Ah, ciò che mi soffi. No, non so, non so, non so, non so. Oh. 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 Noi, 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 noi. Sveglava! Non è il dottio? Alla scuola? Anche lei è rimasta fregata ancora con noi, è rimasta in centro. Anche lei è rimasta fregata. Venti prevedere sfidu. I nostri non definiscono matrimonio, ma posso sicuramente fare il messaggio nel modo giusto. Lo sposo. Ok, vediamo. Ok, vediamo. Ok, vediamo. Vediamo una matrimonio. Allora, sposo, sposo. E ok. Vediamo. ma parola ma parola ma parola ma parola Sì 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 Ah-ha, Andamaglaffi, Shunga Mwaza, Thomsa, Lagunza, Kabla, Mwashubaza, Lefko, Obero, Yadavel, Kisnoi, and Fabi Frenoi, Ebana Iskowange. Grazie... Grazie a tutti. 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 , 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 grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Bob Nudezzi? Oh! Vaughn! Most of the money! Bob Nudezzi? Bob Nudezzi? If he wants to add some points... Bob Nudezzi? Bob Nudezzi? Bob Nudezzi? Bob Nudezzi? Bob Nudezzi? Bob Nudezzi? Sì, 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 sì. Oh! Oh! Oh, bubba! Oh, bubba! Oh, bubba! Pammarei are abrupt. He he he! Come a form! Oh! Ah! Pammarei snerzo! Cune! Oh! 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 Hey! Eh, oh! Get some noise Scherzi. Hmmmm. Text. 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 E qui come ho scoperto in una nuova nuova, c'è stato. Ok ragazzi, il tempo come sempre vola via e ci fermiamo qui, guarda che ti devo restare un amoreggio qua. Ok. Ok. Va bene. No, vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, vi ricordo che vi trovate voi su Twitch, su TikTok e potete vedere comunque il video sempre su YouTube. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.